Buongiorno, ben svegliati e ben ritrovati a mattinone. La rassegna stampa della nostra redazione come ogni mattina siamo pronti per sfogliare le pagine dei quotidiani locali e nazionali partendo ovviamente dalle prime pagine che prenderanno la prima parte di questa trasmissione. Allora cominciamo proprio con le vetrine dei quotidiani che trovate già in edicola. Iniziamo dai giornali di casa nostra partendo con le quattro edizioni del centro. Questa è quella di Pescara che apre con la tassa sui rifiuti che avrà aumenti del 4%. Approvate le tariffe 2018, il PD dice così finanziamo la differenziata. In alto i saldi in Abruzzo, tra nove giorni partono gli sconti, ecco le dieci regole. Molte sono quelle che si conoscono da tempo, i soliti consigli per non cadere in truffe. Filo diretto con l'Inps in pensione del 2018, chi può farlo e quanto prenderà. Scendiamo in pagina, la fotonotizia, il concerto a Pescara, cuori di peluche fan in delirio per Biagio Antonacci al Pala Giovanni Paolo II. E poi nelle cronache vediamo in politica centrodestra verso il voto Forza Italia, quattro nomi per il candidato sindaco del capoluogo adriatico. Ma stasera c'è la serie B, allora andiamo in casa Pescara, ultimo impegno del 2017. Arriva il Venezia, Zeman rilancia Capone e Proietti che torna dopo un lungo infortunio. Sotto la fotonotizia, rimanendo sempre a Pescara, festa con i fedeli a San Cetteo per gli 80 anni di due parroci a Montesilvano. Cronaca rubano in casa la cassaforte e poi fuggono con soldi e con l'oro. Questa è la prima pagina del centro edizione di Pescara. Andiamo su quella dell'Aquila che apre con la cronaca, invece con una confessione, io violentata alla festa di Natale. All'Aquila racconto shock della donna ai medici, c'è un sospettato. La fotonotizia che riguarda il mondo del lavoro. I turni da 12 ore alla Health Foundry sono lavoro usurante. emendamento il caso dell'azienda marsicana. Turni da 12 ore di questa azienda che è uno stabilimento della Marsica e per questo ai fini della pensione saranno riconteggiati. Nelle cronache, rimaniamo nella Marsica, andiamo ad Avezzano, appalti per l'illuminazione, 33 imputati. A Sulmona, invece, 22 sindaci con la Casini, no al gasdotto. Sapete della protesta del primo cittadino, Anna Maria Casini, primo cittadino di Sulmona, che ha di fatto riconsegnato, ha presentato le dimissioni, ha chiesto l'incontro a Palazzo Chigi per evitare il gasdotto Snam a Sulmona. Sempre a Sulmona, rimaniamo con una notizia di cronaca, muore dopo nove giorni dall'incidente. Era stato investito da una Fiat Panda mentre stava tornando a casa per cena. A distanza di nove giorni, l'uomo è morto nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove era stato ricoverato dopo l'incidente. Guido Lastra, 63 anni, non ce l'ha fatta. E poi, per l'Agenzia delle Entrate, Fisco, sospese 5.000 cartelle destinate ai morosi abruzzesi, e invece convocate le associazioni, sull'altro fronte Regione si blocca l'Iter per assistere 1.200 autistici. Andiamo sull'edizione teramana del centro, truffa del sisma, altri otto indagati. Questa l'apertura, l'accusa, prendevano il contributo per l'affitto ma senza lasciare la casa. La fotonotizia a centro pagina, la commissaria De Micheli a Cortino per le casette agli sfollati, dice il 2018 sarà l'anno della ricostruzione. Noi ovviamente ce l'auguriamo, ma che sia davvero e che sia reale a tutti gli effetti. Nelle cronache, cronache appunto, botte al gatto pardo, il PM chiede il processo per i buttafuori. A Teramo, campi sportivi tolti i contributi alle società. Questo è il primo di fatto provvedimento del commissario, arrivato dopo la caduta della giunta Brucchi. A Giulianova, Mastromauro pronto a correre per le elezioni politiche, non scioglie ancora il rebus su una possibile candidatura alle politiche. Ma Francesco Mastromauro, di una cosa è certa, il territorio di Giulianova ha bisogno di un referente in Parlamento. Vedremo se sarà lui in corsa per questo ruolo. Chiudiamo le quattro elezioni del centro andando su quella teatina, quella di Chieti, Lanciano e Vasto. Mille poveri in coda alla Caritas, Chieti in un anno 300 famiglie in più chiedono, pensate, aiuto per mangiare. Davvero un dato allarmante della condizione in alcune parti della nostra regione. Reparto d'eccellenza d'Ortona invece, procreazione assistita a 400 donne seguite fino al parto. Nelle cronache a Vasto, la cognata denuncia il pugile ferito a Chieti, il prefetto che dice L'autovelox va spostato per la solidarietà. Giovanotti regala le crocchette al canile di Vasto, è un legame che si rafforza di anno in anno. Quello tra il canile di Vasto e Giovanotti, come regalo di Natale, ha donato una fornitura di cibo per un mese ai cani ospiti della struttura comunale dove ha adottato la sua piccola Mu. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulle colonne del messaggero, ovviamente edizione abruzzese, con le parole proprio del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che dice bloccheremo la centrale, il vicepresidente della regione Lolli, impediremo il passaggio del gasdotto, anche il centrodestra contro il progetto. Il sindaco Casini consegna la fascia al premier Paolo Gentiloni. In alto, Gran Sasso, la nuova seggiovia sarà pronta soltanto tra un mese. Per la sanità, liste d'attesa a Teramo si può aspettare anche un anno. Ad Avezzano, Maxi, inchiesta sull'illuminazione, rischiano il processo in 33. E poi la foto, Pescara, voglia di Brindisi, vediamo la foto con Stefano Pettinari, Biancazzurri sfidano il Venezia, ho all'obbligo la formazione di Zeman di salutare il pubblico con un bel risultato, ma sono tanti gli infortunati. Torniamo sulla parte sinistra della pagina per il fatto di cronaca dell'Aquila, violentata dopo una festa e scaraventata dall'Aquila, scaraventata dall'auto, la vittima a 25 anni, il presunto stupratore sarebbe un italiano. A Lanciano, rapinatori all'osteria, gestori presi a botte e in basso, a basto, accoltellato e denunciato. Questa è la prima pagina del messaggero. Andiamo adesso sul quotidiano della città. Prima pagina, ovviamente siamo in provincia di Teramo. Primo taglio sugli impianti sportivi, ripresa la notizia che avevamo letto anche poco fa sul centro. Il commissario prefettizio cancella il contributo alle piccole società di calcio per la gestione dei campi. La fotonotizia, Teramo, scritte anarchiche anche alla chiesa dei Cappuccini, nessun rispetto. Sotto la fotonotizia è giallo sul cadavere del fiume Tronto, nessun riscontro sull'identità dalle impronte digitali sul corpo, ritrovato proprio l'altro ieri vicino al Tronto. Di spalla vediamo altre notizie. Castiglione e Pianella, solidarietà e sociale alla cena della BCC, politica De Annuntis, pronto per le regionali. Costa Sud, più controlli contro l'ondata di furti. In basso la notizia. Cortino riparte dopo il sisma con il taglio del nastro della De Micheli. Queste le prime pagine dei quotidiani locali, adesso andiamo sulle colonne dei fogli nazionali per vedere anche quello che interessa, le notizie principali che interessano la nostra regione, ma non solo ovviamente, anche politica nazionale e internazionale. E per l'appunto partiamo dal Corriere della Sera, perché le camere chiuse senza che sia stato approvato lo IUS soli. La minoranza PD chiede 15 giorni di proroga, ma Gentiloni salirà al colle, sapete che si va verso le elezioni, quindi saranno sciolte le camere. Parlamento, Grasso e Boldrini d'accordo con il Premier per il Quirinale. Quello dei giorni di proroga è un tentativo impraticabile. A centropagina sulla BBC, una strana intervista, il principe giornalista Harry intervista l'ex presidente americano Barack Obama. L'ex presidente USA attacca l'uso irresponsabile dei social media. In basso molestie arriva il misura abbraccio. L'emittente NBC, il codice di comportamento deve essere breve e senza contatto. Insomma, un abbraccio non proprio affettuoso, ecco, abbastanza neutrale. Cambiamo quotidiano, andiamo sulla Repubblica, anche qui la questione IUS soli la fa da padrone Gentiloni. IUS soli dopo il voto, nel voto gli ultimi appelli a Mattarella, imbarazzo fra i dem, troppi rischi sui numeri. Il Premier, questa legge, valore fondante della sinistra, camere via allo scioglimento. A centropagina, perché protestiamo da un anno sotto la Trump Tower, gli irriducibili di New York, due manifestanti, insomma, che da un anno, evidentemente, protestano più o meno dal momento dell'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. In basso, il Ministero, vicenda da chiarire, circolare ai presidi toscani, segnalate tutte le alunne con il sospetto di gravidanza. E poi, fondi per il teatro, Franceschini accusa una forzatura da quei 4 milioni in più dati a Barbareschi. Banche nell'incertezza, popolari, la riforma ora in bilico tra la consulta e l'allarme per Bari. Andiamo sulla stampa, quotidiano torinese, Renzi il piano su alleanze e riforme. Parla il segretario PD, difficile l'accordo con Grasso, serve un paracadute per il cileto medio. Il centrodestra lavora al programma comune, si parte da sicurezza e flat tax regioni, ora il Piemonte, anche il Piemonte chiede più autonomia. E poi, a centro pagina, ricorderete il grande attaccante del Milan liberiano, Giorgio Weah, da bomber a presidente della Liberia. Sono state le elezioni, sembra davvero un passo dal diventare, insomma, leader anche politico del proprio paese. Per l'ex attaccante del Milan si attende solo la proclamazione. L'ex compagno di squadra Demetrio Albertini, in campo, dice, era già un leader. Andiamo sul fatto quotidiano con le parole del candidato del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Così farò il governo, la strategia per la sera dopo il voto, alleanze e ministri. Gli altri partiti alla fine si sfalderanno, dice Di Maio. Tratterò con tutti, alla luce del sole, un esecutivo di competenti e sensibili, scelti anche fuori dal Movimento. In alto, Arezzo, ora e massoneria, il potere intorno al buco di Etruria. Viaggio nella città degli orafi e delle logge occulte. Il manifesto, con il solito titolo ad effetto, lasciati soli con questa foto, affossato dal PD al Senato, lo Iussoli potrebbe risorgere, basterebbe rinviare di qualche giorno lo scioglimento delle Camere per un ultimo tentativo. Lo chiede la minoranza Demma, il capo dello Stato, deciso però a chiudere la legislatura, senza esporre a rischi i gentiloni che parla oggi. Naufragio, tempesta sui soccorsi, il maltempo ferma le ricerche nel canale di Sicilia. Cambiamo giornale, andiamo sul messaggero. Intercettazioni, qui il titolo cambia, stretta a metà. Il varo previsto dall'ultimo Consiglio dei Ministri di domani, più tutele per la privacy, audio irrilevanti, distrutti, il guardasigili, chi non è coinvolto non comparirà negli atti accolte le richieste delle procure per la politica. Oggi il decreto di scioglimento delle Camere, Iussoli Gentiloni chiude il dossier in fumo, l'ultima ossessione della sinistra. E poi, cosa ha detto l'ex Presidente Obama che punge Trump, i social non servono a dividere, R intervista Obama, slip o box, insomma non proprio una domanda indimenticabile. La rivolta di Roma per i rifiuti in strada, cassonetti in fiamme nelle periferie della capitale, residenti esasperati per la mancata raccolta, incendiano i contenitori. Il tempo, altro che spelacchio, con questo albero che di fatto impedisce il regolare svolgimento del traffico, ma soprattutto ha distrutto una macchina, traffico impazzito e capitale paralizzata dopo la pioggia natalizia, zero manutenzione, crollano alberi e rami ovunque, stragi sfiorate. Di spalla la carta compie 70 anni, poche feste, la carta costituzionale, poche feste contro il re, furono brogli. Quindi in basso crolla pure il turismo religioso, Pellegrini in fuga da Roma, surclassata persino da Trento e da Bolzano. Libero, Tuvo fa l'americano, quanto ci guadagneremmo se applicassimo anche noi la riforma di Donald Trump, se l'Italia attuasse il piano fiscale del presidente USA, ogni contribuente si ritroverebbe in casa, un paio di stipendi in più all'anno, l'operazione converrebbe a chi lavora e penalizzerebbe Fanulloni ed Evasori. Ecco le simulazioni. Poi a centropagina una notizia che riguarda Lewis Hamilton, che normalmente è nella parte sportiva del giornale, adesso si ritrova a lui in un'altra parte del quotidiano, il pilota Hamilton dice al nipote di non vestirsi da donna e viene linciato, evviva il campione di Formula 1, a basso chi vuole educare i nostri figli. In basso Gentiloni fa il cameriere di Macron, spedisce 500 nostri soldati in Niger per fare il lavoro sporco alla Francia. La verità, numeri 1 in povertà, perché non usciamo dalla crisi? Moneta troppo forte e politiche sbagliate, ma è così larga la forbice tra il pil pro capite dei paesi europei e dell'Italia. E anche gli stipendi restano al palo rispetto a tutti gli altri. Anche qui la questione che riguarda Lewis Hamilton, dice al nipote non devi vestirti da principessa e viene linciato sui social a centropagina. In Niger rischiamo un'altra guerra libica, troppi per l'addestramento, pochi per la lotta ai terroristi. I nostri 500 soldati si ridurranno a fare da supporto ai francesi, che in quella area estragono uranio e contano i militari morti. E poi in basso, la morte di Gualtiero Marchesi, chi era veramente il re sole degli chef, voleva aprire una pizzeria. Il primo ad avere tre stelle Michelin, a perderne una, a rifiutarne due, diceva nessuno. E' perfetto. L'avvenire. Sull'Europa le mani dei paradisi fiscali detengono il 30% di tutti gli investimenti esteri. Secondo Eurostat, Bermuda è il terzo paese che controlla più azioni di società dell'Unione Europea. Per questo Bruxelles ha scelto la linea morbida. Il reportage da una nazione in ginocchio in Venezuela, ora non ci si può nemmeno curare. Per la politica, di corsa al voto, la rotta del colle e nodo alleanze. Mattarella pronto a sciogliere le camere. Il secolo XIX, invece, va sulla sponda al Partito Democratico, con le parole di Renzi, ecco le nuove sfide, priorità ceto medie d'Europa, intesa con grasso, poco realistica, la strategia del centrodestra per sicurezza e fisco. Iussoli, appello della minoranza DEM. Il mattino, invece, qui siamo a Napoli, intercettazioni, salta la stretta, il governo accoglie le richieste dei PM, esteso anche l'uso dei virus spia. E poi due analisi, le promesse, bonus poveri, la generosità prima del voto e poi lo studio, il sud riparte, ma non per i giovani. A centro pagina, il ride su Arturo, il ragazzo arrestato, nega davanti al jeep, il quindicenne fermato con gli amici, ma il giubbotto lo inchioda. Onà, datti forze in quelle quattro mura, il messaggio shock degli amici al quindicenne. Il sole 24 ore con cui chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani generalisti, poi andremo su quelli sportivi. Azioni, cedole e derivati, tassa sulle rendite al 26%, i redditi più elevati avranno i maggiori guadagni. Il bilancio di fine legislatura, riforme, attuazione al 77%, mancano 291 decreti. Il record della manovra, Mattarella scioglie le camere, il governo Gentiloni resta in carica. E poi le tensioni sulle materie prime, petrolio alla prova dei mille focolai di crisi e c'è anche l'analisi, tutti i pericoli per la ripresa. Cambiamo adesso tipologia di quotidiano, andiamo su quelli sportivi con la Gazzetta dello Sport. Ieri sera c'è stato il quarto di finale, il derby di Milano tra Milan e Inter di Coppa Italia. Brinda il Milan, decide il Golden Baby Cutrone. E allarme Inter, Coppa Italia e Rosso Neri, un derby. Tutto cuore e grinta, pioggia, paure e molti errori. Il diavolo risolve con merito al primo supplementare, grazie al giovane bomber di 19 anni. Gattuso in sé in finale troverà la Lazio, io sarò scarso, ma puntini puntini, i miei ragazzi sono fantastici. Terza sconfitta di fila per Spalletti, che dice, dobbiamo sterzare. E questa è la foto proprio di Patrick Cutrone e il commento di Luigi Garlando, il ringhio di chi ha più fame. Altre storie di ieri sera, da Parasita Ero è l'incredibile serata dell'altro Donnarumma, Antonio, che è andato tra i pali, tra i rossoneri. Dall'altra parte, mercato di gennaio, prestito Deulofeo e Aleish Vidal dal Barcellona, idea nera-azzurra. Liberia, UEA verso la vittoria alle elezioni per la presidenza. Ma in alto ci sono le questioni torinesi, partendo proprio dal Toro, Belotti, ginocchio KO, ma è solo una distorsione. Infortuni in allenamento dalla prima diagnosi, esclusi danni ai legamenti. In casa Juve, invece, Di Bala gioca a Verona, castigo quasi finito, rinnova in vista. Una stagione per Barzagli, che ha 36 anni, fino al 2019 per Chiellini, che ne ha 33. In basso, per lo sci, Bormio torna in pista, oggi la discesa con l'incognita del vento. Altre notizie che riguardano il mercato estero, ma non solo, anche gli altri sport. Pazzia del Liverpool, che ha acquistato Van Dijk dal Southampton, 85 milioni per un difensore, 85 milioni di euro. Poi, per il basket, Gentile, Alessandro Gentile carica Bologna, la Virtus è da Europa. Poi ricorderete Riccardo Riccò, che qualche anno fa, nel mondo del ciclismo, aveva ottenuto grandissimi risultati, prima di essere fermato, come leggete, per 12 anni per doping. Adesso fa gelati, dice, ma tornerò in bicicletta. Corriere dello Sport, Ringio Star, il derby di Coppa al Milan, segna Cutrone ai supplementari, decisivo l'altro Donnarumma, Gigi e Storari, erano finiti. K.O. e poi il commento, Palletti ha perso l'Inter per strada. In alto, Juventus, Mandzukic, no a 30 milioni, lo juventino rifiuta la Cina e un biennale da capogiro, offertogli dall'Abay Fortune, resta in Italia. Dunque il Croato a disposizione di Max Allegri. Anche qui, Liverpool preso Van Dijk, Liverpool record, 84 milioni e mezzo di euro al Southampton, che sarà contento, insomma, di aver venuto un difensore poi non indimenticabile per una cifra pazzesca. Serie B, Palermo, basta un punto per chiudere in testa il girone d'andata. Esame Carpi per il Bari, il Frosinone è a Foggia, Parma 0 a 0 nell'anticipo. Bormio per lo Scipari si lancia, sogno il trionfo, come nel 2012. Chiudiamo le prime pagine con Tutto Sport, tre terzini per la Juve. Alexandro, Licksteiner e Asamoah in partenza tra gennaio e giugno. Marotta al lavoro per rimpiazzarli. Spinazzola rientrerà dall'Atalanta, col Valencia si tratta Gaia, mentre col Napoli duello per Goulam e Darmian. Di spalla, urlo cutrone, dopo 104 minuti, Ringhio, Milan, vittoria di rabbia contro un Inter in crisi. Ora semifinale con la Lazio, Antonio Donnarumma da favola, gioca al posto di Gigio e Storari. E para davvero tutto. In basso, la legge di Sterling. Il City vola a più 15, ovviamente siamo in Premier League, li rimaniamo con il mercato. Van Dijk al Liverpool, una follia da 85 milioni. E poi Toro, Belotti che spavento, altro crack al ginocchio. Ma nel derby di Coppa Italia, di settimana prossima, ci sarà. Ci fermiamo adesso, chiudiamo la prima parte di mattino 6, previsioni del meteo, pubblicità e poi torniamo per entrare all'interno dei quotidiani di casa nostra. Seconda parte di mattino 6, allora adesso andiamo a sfogliare all'interno i quotidiani regionali abruzzesi. partendo con la questione del gasdotto di Sulmona e dunque dalle colonne del messaggero che sceglie proprio questa apertura nella pagina abruzzese con le parole del vicepresidente della regione Lolli che dice chiederemo al governo di rinunciare al progetto, dice bloccheremo la centrale della SNAM, il centrodestra critico con il Partito Democratico, ma in sostanza appoggia la battaglia. E poi le dimissioni del sindaco Casini che vengono confermate, il sindaco restituisce la fascia direttamente a Gentiloni. Questa è l'apertura della pagina abruzzese del messaggero. Andando avanti entriamo proprio nelle quattro province partendo da Pescara e dagli equilibri politici. La vendetta fredda di Giuliano Diodati fa ballare PD e Giunta. I fedelissimi dell'ex assessore rallentano la manovra su Tari e Bilancio e catalizzano le fibrillazioni degli anti D'Alfonso. Saliamo in alto, la faticosa marcia della manovra economica nasconde le tensioni del partito di Matteo in partenza per l'EU pronto alle dimissioni. Ancora a Pescara l'antica fonte Borea ricoperta dai Rovi è polemica sul monumento perduto di Biase De Collibus. denunciano l'abbandono del monumento Blasioli pronti 120 mila euro. In basso gli anni di convergenze quando l'arte trovò casa a Pescara. Nel documentario di Germano Scurti che apre il ciclo di Docudì parlano i protagonisti di quella stagione. Rimaniamo sempre a Pescara ma andando sulle colonne del centro con la delibera sull'Atari tassa sui rifiuti aumenti fino a 21 euro via libera del Consiglio Comunale per le tariffe 2018. Il PD è necessario investire sulla raccolta differenziata e ci sono ovviamente le reazioni. Emilio Longhi che dice per i cittadini il sacrificio sarà minimo e per un periodo ridotto. Dall'altra parte Marcello Antonelli che dice in aula siamo bloccati dalle faide interne del partito democratico. Dall'altra parte la polemica di Forza Italia ha ingiustificabili 200 mila euro per i concerti di fine anno. Il 31 dicembre si esibirà Capo Sela e il primo gennaio Ermalmeta. Cerolini attacca spese eccessive per allestire due eventi che non produrranno effetti economici sulla città. Ma è un centrodestra che si prepara al voto e dunque Mascia Antonelli e Masci e Sospiri in quattro per un posto. La candidatura a sindaco legata alle scelte che Forza Italia farà per le politiche ma dipende soprattutto da Berlusconi che ha già chiamato Pagano al telefono. L'ex sindaco Luigi Albore Mascia pronto a ripresentarsi dopo il ballottaggio perso con Alessandrini ma il fondatore di Pescara Futura potrebbe essere lanciato su Roma. In basso solidarietà per i bambini in ospedale 266 mila euro raccolti con i dipendenti di Fater, Fameccanica e Procter & Gamble. Sempre solidarietà tombolata con la Croce Rossa e i detenuti di San Donato. Andiamo avanti a pagina 17 provincia messi in salvo gli stipendi dei dipendenti approvato il bilancio preventivo 2017 con quattro voti a favore e tre astenzioni. Di Marco un atto di responsabilità garantiti 2 milioni per il Marconi di Penne. L'opposizione va all'attacco maggioranza senza numeri e di Marco deve dimettersi il presidente della provincia di Pescara. Andiamo avanti con il concerto di Biagio Antonacci che fa il boom tra i fan in delirio e cuori di peluche. Palla Giovanni Paolo II stracolmo per lo show dell'artista. C'è sempre una donna bellissima nelle mie canzoni e queste sono alcune foto, le foto più belle della serata del concerto di Biagio Antonacci. A Montesilvano rubano una cassaforte e fuggono con soldi e oro. Furto serale in un appartamento, i malviventi avevano a disposizione una mola, l'allarme dei carabinieri lanciato dai vicini che hanno sentito dei rumori anomali. Sempre a Montesilvano, dall'altra parte solidarietà dietro le sbarre, 40 classi del Delfico a sostegno dei detenuti. Il progetto realizzato dalla maestra di Serafino ha visto coinvolti centinaia di alunni e famiglie, raccolti 750 euro a beneficio delle iniziative a San Donato di Suor Livia Ciaramella. In basso premio Futsal in memoria di Bevilacqua e Spinelli e poi Christmas Village al Paladin Martin, Elfi e Doni di Natale, Cartoon e Festival della Melodia. Aspoltore, botti e petardi saranno vietati fino al 7 gennaio. Stop l'accensione di esplosivi nelle aree pubbliche, compresi i festeggiamenti. Per l'arrivo del nuovo anno di Lorito, il sindaco firma l'ordinanza. Da oggi multe e controlli. Rimandiamo sempre a Montesilvano, centri sociali e associazioni. Risparmi per 40.000 euro e oggi concerto in provincia del coro polifonico angolano. Andiamo sul messaggero per andare avanti nella lettura delle pagine della provincia di Pescara e provincia. Le stoviglie, questa storia color nostalgia dei locali di Largo Madonna. I ristoranti tipici, il forno, il pasticcere, la piazza dei Colli, tra orgoglio e identità. I frati, la festa, le giosti, gli abitanti legati a devozioni, riti e tradizioni antiche. In basso alla Ternino lo show del futuro tra seminari, proiezioni e start-up. Da oggi il Grand Happening alle 22.30. E poi la stella nascente di Mazzocchetti, che ha 22 anni, podio, bacchetta e la musica nel sangue. Il giovanissimo angolano è una promessa della direzione d'orchestra. Oggi pomeriggio si esibirà in provincia con il coro, la voce del borgo. Incidente sulla Tiburtino, un frontale coinvolti e feriti, tre ragazzi. In basso l'altro Natale, oltre 4.000 alla menza, 7 su 10 sono italiani. Dopo 5 mesi il bilancio per la struttura di Montesilvano, l'Emporio Solidale, serve 162 famiglie. Torniamo sulle colonne del centro per restare sulla provincia di Pescara. Poi, ovviamente, come avete visto, cambieremo provincia. Andiamo a Francavilla, Orto Amico. Un progetto rivolto a 400 alunni. Riparte per il quarto anno l'iniziativa didattica voluta dal consigliere di Palma per educare i ragazzi al rispetto dell'ambiente e mangiare sano. Videosorveglianza si parte, sempre a Francavilla, dalla Sirena e da Sant'Alfonso. A San Giovanni Teatino, invece, Rete del Gas. Ecco i nuovi contatori, sostituzioni con apparecchi elettronici senza aggravi per gli utenti. In basso, sempre a Francavilla, due iniziative. Domani la commemorazione dei 21 martiri di Santa Cecilia. Monti d'Abruzzo mostra la fotografica fino al 7 di gennaio. Andiamo nell'area Vestina e partiamo dall'alto. Furto in convento. Caccia un'alfa a 147. Pianella, l'auto su cui sono scappati i tre banditi, potrebbe essere stata rubata proprio a Francavilla. E poi, feste senza acqua per mille famiglie residenti a Rosciano. La condotta che attraversa il centro del paese si è rotta il 21, ma solamente ieri si è tornati alla normalità. E il sindaco dice che è un fatto assolutamente grave. Vedete, nella foto, una delle perdite d'acqua è proprio nel centro di Rosciano. In basso per la cronaca, a Penne, ubriaco ai giardini, bloccato da un appuntato fuori servizio. Il giovane era persino armato di una mazza da baseball. A Penne, Vestina Gas, offerta da 3,5 milioni. Il gruppo I'm Energy di Vicenza è pronto a rilevare il 51%. Andiamo a Chieti. Le famiglie in crisi in mille vanno alla Caritas. 300 nuovi poveri nel 2017. In città crescono le persone in difficoltà. Assistite sempre più famiglie e teatine. Per Natale i volontari hanno distribuito agli indigenti 600 buoni pasto da 20 euro. e per le persone sole c'è il capodanno al centro di accoglienza. E poi c'è il specchietto che riassume le cifre. Sono 720 le persone assistite dalla Caritas nel 2016, di cui 473 italiani e 247 stranieri. Sempre per la cronaca, in basso. Io, presa a pugni in faccia dal pugile vasto, la moglie del pescatore arrestato, denuncia urbano. L'avvocato Orticelli ha difeso la donna. All'Aquila, racconto shock, mi ha violentata dopo la festa di Natale. Giovane Aquilana si fa medicare al pronto soccorso e rivela a tutti i medici. Chi avvisano la polizia? E adesso c'è un sospettato. Gli investigatori sequestrano alcuni indumenti e si preparano a mettere a confronto la presunta vittima con la persona accusata. Presto saranno sentiti tutti i partecipanti a questa festa. Altre notizie. Gli avvocati in lutto per la morte di Paola Rossi aveva 55 anni. Ieri l'addio. Valanga Killer sul Gran Sasso. Il teologo deceduto per asfissia. Resi noti i risultati dell'autopsia. L'inchiesta sarà archiviata. Ad Avezzano. Appalti per l'illuminazione. 33 imputati, sindaci, professionisti e imprenditori accusati. A vario titolo di corruzione, riciclaggio è falso. Andiamo a Teramo. Dopo le calamità, il commissario De Micheli dice che il 2018 sarà l'anno della ricostruzione. Soldi enorme ci sono. Bisogna avviare subito i cantieri. Ma intanto, come vedete, furbetti del sisma, inchiesta bis, gli altri otto indagati per truffa. Poi in realtà alle parole, belle parole, spesso non seguono i relativi fatti. Alba Adriatica, botte al gatto pardo. Il PM chiede il processo per 5 butta fuori. E intanto, sempre in vibrata contro guerra, resta senza nome il cadavere trovato lungo il tronto. Come vedete, tra un po' andremo anche nella pagina sportiva, ma torniamo allora sul messaggero per vedere le altre province. Andiamo all'Aquila, stuprata e lasciata al freddo dopo la serata in un locale. La giovane sarebbe stata adescata, violentata e abbandonata in campagna. Decisivo l'allarme lanciata dall'amica che non l'ha vista tornare all'alba. Altre notizie, montagne al bivio, fontari, tempi lunghi, la stagione è a rischio, la nuova seggiovia. In basso, funerali a San Bernardino dell'avvocato Paola Rossi. Poi la città inclusiva, sempre all'Aquila, piscina comunale donato un sollevatore per disabili, anziani e riabilitazione. Il sindaco Biondi, che apre questa polemica, solo in riconoscenza da Gran Sasso, anno zero. Influenza, tanti a letto, il picco a gennaio, lunghe file nelle farmacie. Restiamo all'Aquila per la prima ondata di virus, Gian Sante dell'Asile, grosso atteso tra 15 giorni a Sassa. Siamo a centropagia, si sperimenta il semaforo, intanto, anti-ingorgo. Ad Avezzano, illuminazione pubblica in 33 Neguai. Maxi richiesta di invia giudizio anche per molti politici nell'inchiesta partita dalla denuncia di un imprenditore. Non solo la città capoluogo, ma pure altri grossi centri convolti nell'afferra e nel presunto giro di tangenti. A Luco dei Marsi e centropagina, la De Rosa tira dritto, nessun avviso di garanzia, dice il sindaco di Luco dei Marsi. Altre notizie. A Pratola, il presepe violato, solo fake news del sindaco. A Tagliacozzo, scuole, svelato il mistero del mega finanziamento. A Roccaraso, invece, la stagione scistica è a pieno regime. Per il fucino, ecco i soldi per irrigazione e siccità. Andiamo a Chieti. Niente manifestazioni in città. Un altro capodanno triste. Zero eventi per la notte di San Silvestro. Marzoli, del PD. Amministrazione senza idee. Il sindaco ribatte. Dalle opposizioni solo misera propaganda. Non ci sono soldi. Di Paolo attacca. Chieti alla deriva. Cittadini rassegnati. Impatto visivo desolante durante le festività natalizie. E poi, di spalla, dall'Agenzia di sviluppo aiuti a giovani e imprese. Tre anni di lavoro nel bilancio del presidente De Cesare, che dice, soddisfatto dei risultati. La buona sanità, ASL, interprete al telefono H24 per l'assistenza agli stranieri. Ovviamente, chi non parla l'italiano. In basso, torna l'autorelox fisso sulla Tiburtina. L'ok del prefetto si parte entro due settimane. Controllo elettronico della velocità anche a vasto. Un Natale di sangue. Così, questa è l'apertura della pagina 51. Denunciato anche il pugile ferito. Slitta oggi l'udienza di convalida del fermo del pescatore. Il PM voleva uccidere il cognato. Lui ribatte. Legittima difesa. La moglie l'ha arrestato. Ha presentato querela contro Urbano. Io colpita tre volte in faccia. Ecco le foto che lo dimostrano. Sempre a vasto. Carambola su Via Istonia. Donna incastrata in auto. Ad Ortona. Pista ciclopedonale. Manca solo l'ultimo tratto. Scendiamo in basso. Ancora a vasto. Il sindaco Menna. Conti inattivo. L'opposizione dice. Sono conti taroccati. A Teramo. Sanità Lumaca. Per una visita bisogna aspettare un anno. Mammografia record di 300 giorni. Quasi sette mesi per una risonanza. Complessivamente però i tempi per ottenere un esame sarebbero diminuiti. L'ASL sottolinea però l'impegno e il gran lavoro che ci sono stati per accelerare le procedure. Andiamo in vibrata. Il giallo. L'uomo trovato morto. Identificazione difficile. L'uomo trovato morto sulle rivie del Tronto. Un giaciglio vicino al corpo. Forse un clociare usciso dagli stenti durante la notte di Natale. Conti ok. La BCC fa festa con oltre 5.000 soci. E poi andiamo a Giulianova perché il sindaco Mastromauro è pronto a candidarsi. In caso di via libera con il decreto del Consiglio dei Ministri. L'inquilino del Comune si presenterebbe alla Camera con l'EU. L'annuncio durante la tradizionale conferenza di fine anno dalla protezione civile Alex Saddam. Tanti, dice, sono stati i progetti realizzati. A centro pagina violenti insulti al sindaco su Facebook finisce sotto processo una donna di 68 anni. In basso, Santomero, allarme per la strada del Salinello. Niente segnaletica, ci sono soltanto le buche. Allora rimaniamo proprio in provincia di Teramo per andare nel capoluogo. Comune commissariato, lo sapete, il primo taglio è sugli impianti sportivi. Questa è l'apertura del quotidiano La Città. Il commissario prefettizio cancella i contributi alle piccole società di calcio per la gestione dei campi. E qui ne vediamo un paio. Il campo sportivo della Cona e il campo sportivo di Miano. Rimaniamo a Teramo perché è imbrattata anche la chiesa dei Cappuccini. Iscritte anarchiche comparse in città non risparmiano neanche uno dei luoghi storici di Teramo. Un ride notturno che non ha risparmiato neanche la zona di Via D'Annunzio e quella di Largo San Carlo. Mercatini flop a Teramo. La top è peggio del buco. L'assessore Canzio ricorda che la sua proposta prevedeva l'allestimento delle casette di legno in piazza. Per Canzio è il peso della tassa per l'occupazione del suolo pubblico che va a limitare la qualità di questi mercatini. Riscossione sospesa durante le festività. L'agenzia delle entrate abruzzese congela 5.000 cartelle ad eccezione di quelle inderogabili. I dati regionali sospesa fino alla Befana. La notifica di 4.829 atti. di questi quasi mille riguardano la provincia di Teramo. Andiamo avanti perché la solidarietà e sociale alla cena della BCC. 5.036 soci dell'Istituto di Credito presieduto da Alfredo Savini si sono ritrovati a Montesilvano. Ed è giallo sull'identità del cadavere del Tronto. Nessun riscontro dalle impronte digitali e dalle denunce di scomparsa. Oggi autopsia della dottoressa Gina Quaglione per stabilire le cause del decesso dell'uomo ritrovato morto proprio il giorno dopo Natale. A Martinsicuro ci sarà una carta d'identità elettronica anche nel Comune. Andiamo a Corropoli, anzi restiamo a Corropoli perché De Annuntis è pronto a candidarsi per la regione. Il sindaco serve un'inversione di marcia per far ripartire la Val Vibrata. Il bilancio di fine anno del Comune di Giulianova, Mastromauro, promuove il suo operato. È stato un anno intenso in cui abbiamo centrato tanti importanti obiettivi per la nostra città. Il progetto dei terreni cerulli potrebbe essere cosa fatta? Manca per rendere l'operativo solo il parere della sovrintendenza. Rifiuti però di servizi in città per la raccolta della carta da parte di Ecotedi. Andiamo a Roseto, più controlli contro l'ondata di furti, pattuglie e posti di blocco intensificati sulla costa da parte dei carabinieri. Controllati 39 esercizi pubblici lungo la costa per verificare la genuinità di bevande e degli alimenti. Adesso possiamo passare alla pagina dello sport perché questa sera è la sera di Pescara-Venezia. Zeman, la mia squadra, può battere chiunque il tecnico ma i ragazzi devono convincersi di essere all'altezza delle migliori. L'allenatore insiste, sarà necessario cambiare la mentalità, non siamo capaci di gestire un risultato. Sull'avversario, il Venezia è una squadra quadrata, bisogna muovere la loro difesa. Non è vero che Inzaghi è un difensivista. Sul rapporto con Sebastiani, cosa dovrei dire? Se questa è la mia ultima panchina, non c'è nulla da raccontare. Tra un po' lo sentiremo Zeman che parte proprio rispondendo a una domanda sul rapporto con il presidente Daniele Sebastiani. Tanto Bovo, operato al ginocchio, Inzaghi, il Pescara, il Delfino è da Serie A. Intervento di pulizia della cartilagine per il difensore che sarà fuori due mesi. L'allenatore del Venezia e Biancazzurri possono puntare alla promozione. Allora vediamo le probabili di questa sera allo stadio Adriatico Cornacchia. Partiamo dagli ospiti, dal Venezia 5-3-2, Audero tra i pali, Zampano, fratello di Francesco Zampano. A destra, Garofalo a sinistra, Andelcovic, Modolo e Bruscagin. Centrali, signori, Bentivoglio e Pinato a centrocampo per il Venezia. Zigoni e l'ex Terramano Moreo davanti. Vediamo il Pescara, ovviamente non può che essere. 4-3, Fiorillo in porta, Crescenze a destra, Mazzotta a sinistra, Coda e Perrotta, i centrali, coppia di fatto quasi obbligata. Proietti che torna al centro del campo con Brugman e Valzania, Mezziali, Pettinari al centro, con Capone e Mancuso sulle corsie laterali. Vediamo, prima di ascoltare Zeman, vediamo anche il messaggero Pescara vincere e brindare al 2018. Questa sera va in archivio un 2017 da mandare subito in soffitta. Le 20.30 arriva il Venezia. I Biancazzurri hanno l'obbligo di salutare il proprio pubblico con un bel risultato. Tanti infortuni, spazio a Capone al posto di Ben Ali. Allora, andiamo a ascoltare le parole in conferenza stampa di ieri dell'allenatore biancazzurro Zdenek Zeman. È perché non c'è niente da raccontare. Di nuovo, cosa ci siamo detti, se è ultima, se è penultima, non se ne parla. Non ve lo dico nel senso che, di nuovo, è la società che fa quello che può fare e quello che deve fare. Io posso esprimere il mio giudizio sulla squadra, su che cosa ci manca e su che cosa ci avanza. E lo posso dire alla società, non a voi. Io come la so, Guanzani è stato richiesto da Atalanta, perché è loro. Vabbè, poi è girato a Scarpi. Vabbè, ma la pressione viene da Atalanta, no da Scarpi. Secondo me. Perché non sono contenti, forse, dell'utilizzo di un nostro giocatore? Come si spiega? Ma molte cose, secondo me, si spiegano con motivi finanziari. Io ho parlato con i direttori, sì. Con i direttori sì, con la società no? Cioè la società è senza il presidente. Ma io pensavo che i direttori fanno parte della società. No, però, no, pensavo che fosse avuto già un piano. Forse mi sono sbagliato. Domani potremo vedere nel primo minuto finalmente proietti? A me ci devo pensare, il ragazzo si è allenato, a parte che si è allenato anche prima, ma ha fatto quasi due settimane con la squadra, quindi dovrebbe essere pronto. La squadra ha fatto bene per me, ha fatto molto bene il primo tempo a Foggia, anche se poi ha preso due gol nei tempi di recupero. È una squadra quadrata. Nel tuo giudizio sull'allenatore, Filippo Inzaghi? A me, ma di solito, anche se uno è attaccante, l'allenatore deve fare allenatore, deve fare quadrare la squadra, quindi se la vede così, in questo momento, anche poi lui non è tanto difensivo come si dice, però sul campo cerca prima di proteggersi. E dunque stasera Pescara-Venezia, io vi ricordo l'appuntamento a partire dalle ore 20, con Diretta Stadio, con Andrea Costantini in studio, con Paolo Renzetti, ovviamente allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara, per il pre-gara, per la gara e per il post-gara, che ovviamente vi assicuriamo in diretta, come tutte le partite dei Bianco-Azzurri. Dunque appuntamento questa sera su TV6 alle ore 20, con il Lampio pre-partita. Andiamo adesso in Serie C, in Casa Teramo, ripartendo dal Messaggero, ovviamente andiamo in Casa Teramo, foggia via il Teramo, ora compra l'attaccante napoletano, è il maggiore indiziato a lasciare il club bianco-rosso. Nelle ultime due uscite il tecnico Asta lo ha tenuto in panchina e adesso si cerca una punta. Dalla parte opposta, al Palatricalle, oggi derby di solidarietà, parliamo di basket, quella partita tra il Magic e il Chieti, offerta libera da devolvere all'associazione L'Arca di Francesca. Rimaniamo a parlare di Teramo, andando sul centro, il Teramo scalda i motori, oggi vertice di mercato. Il Serie C, il club studia strategia per sfoltire la rosa e ingaggiare almeno tre pedine, servono una punta a un centrocampista e un esterno sinistro, foggia, va verso l'addio. E nel 2018 Asta potrebbe avere un Teramo più eclettico, il diavolo andrà sul mercato per cercare elementi che possano fare al caso dei tre moduli che vediamo e che dovrebbero essere la struttura del prossimo Teramo perché con il 3-5-2 ci gioca già Asta, ma vorrebbe poter giocare anche con questi altri due sistemi, 3-4-1-2, allora manca il trequartista, manca l'esterno a sinistra e manca la punta, punta che manca anche in questo caso, con 3-4-2-1, ma mancherebbe solamente un esterno sinistro che possa giocarsi il posto con Pietrantonio. Continuiamo sul centro perché a Pescara ci saranno gli assoluti di atletica leggera 2018. Il Consiglio federale della FIDA l'assegna all'organizzazione della manifestazione all'US Aterno si svolgerà all'Adriatico Cornacchia dal 7 al prossimo 9 settembre. Per la 2, Roseto domani sera di scena a Treviso per tentare il colpo dopo la sconfitta di qualche sera fa contro la fortitudo Bologna. È tutto con questa notizia. Chiudiamo la nostra rassegna stampa che torna ovviamente domani alle ore 8 puntuale. Io vi ricordo gli appuntamenti con le tradizioni ai nostri telegiornali a partire dalla prima alle ore 14 con le principali news da parte della nostra regione. E poi vi ricordo ancora questa sera a partire dalle 20 diretta a stadio con Andrea Costantini e Paolo Renzetti per vivere insieme l'ultima partita della Pescara 2017. Pescara-Venezia. Mattino 6 torna invece domani alle ore 8. Buona giornata. Mattino 6 torna invece domani alle ore 8. Mattino 6 torna invece domani alle ore 8. Mattino 6 torna invece domani alle ore 19. Grazie.